Ciao a tutti ragazzi, colgo l'occasione per fare questo video velocissimo perché posso tenere questa jumper T12 per qualche giorno, ho dovuto riparare il drone di un ragazzo che ha proprio questa radio. Manco farla apposta e visto che devo recensire la radio master TX12 ho pensato che questo piccolo confronto anche estetico potesse interessare per chi ha magari già questa radio oppure vuole una radio così piccola ed economica. Partiamo dal prezzo, allora se la trovate ancora perché in alcuni store non è più presente la jumper T12 comunque costa di più della radio master. Punto di partenza, la radio master costa veramente pochissimo con il codice sconto che trovate nella descrizione addirittura arriviamo sui 50 euro. La jumper T12 adesso non so a quanto si trova però viene più di 50 euro. Allora, primo impatto sembrano abbastanza simili ma vi posso assicurare che andandole a vedere da vicino sicuramente cambia. Allora, qui abbiamo una scocca simile carbonio ma alla fine è plastica, mentre qui abbiamo la classica plastica che possiamo trovare anche sulla radio più grande. A mio avviso molto piacevole al tatto, ve le faccio vedere entrambe da vicino a me sinceramente sia sugli smartphone o comunque altri prodotti tecnologici questo tipo di plastica opaca piace veramente tanto. Qui invece abbiamo tra virgolette un simile carbonio anche se comunque anche questa è molto carina come estetica però adesso andando a vedere le varie differenze vedremo che comunque secondo me la radio master vince. Allora, partiamo subito dai vari tasti. Allora, sarà che sono abituato però solo avere la rotella metallica a mio avviso vince a mani basse. La rotella metallica funziona, io l'ho già provata, funziona veramente bene e vi posso assicurare che la disposizione come sulla radio master più grande vi facilita la creazione del modello e le varie configurazioni. Vi faccio vedere un attimo anche la jumper T12, allora non che con questa disposizione non riuscite a configurare e fare tutto quello che ci serve però vi posso assicurare che con i tastini, con comunque la disposizione di tasti in questo modo ci mettete più tempo rispetto ad una rotella. Per quanto riguarda i gimbal io direi che siamo alla pari, per me sono probabilmente gli stessi gimbal su entrambe le radio. Gli switch diciamo che qui abbiamo gli switch fatti in modo diverso ma più o meno abbiamo gli stessi switch. Allora sulla T12 abbiamo i classici switch dappertutto mentre sulla radio master abbiamo i classici switch mentre i due switch laterali abbiamo il pulsante. Molto molto figa questa cosa perché ad esempio potremmo utilizzare il pre-arm, teniamo premuto questo e poi magari armiamo il drone. I pulsanti io l'avevo su un'altra radio, sono molto più che altro fighi perché comunque alla fine uno switch è uno switch, però guardando solo la parte frontale vi posso assicurare che esteticamente se dovresti scegliere fra le due la radio master comunque mi piace. E' vero, è stata fatta dopo e quindi ha il vantaggio di essere appunto stata progettata dopo. Allora qui abbiamo l'antenna rimovibile che non abbiamo neanche sulla grande, cosa a mio viso molto comoda se utilizziamo il crossfire come nel mio caso. Allora anche sulla T12 possiamo mettere il crossfire. Allora adesso non mi ricordo se sulla T12 l'antenna è smontabile ma lo andiamo a scoprire subito. Allora vediamo se si smonta, ok anche sulla T12 è smontabile quindi ok. Allora una cosa che ha aggiunto Radio Master sulle ultime radio è avere la staffa pieghevole. Allora la staffa pieghevole a mio avviso è un plus e non da poco. Allora questa staffa qui anche se in plastica è contro la staffa in metallo della radio più grande, ovviamente per 50 euro non possiamo pretendere tutto, però vi posso assicurare che questo nello zaino fa la differenza. Questa invece di rimanere sempre aperta come in questo caso all'interno dello zaino ce la fa diventare più bassa e quindi è ancora più compatta. Allora all'accio dell'accetto uguale, proviamole ad accendere ma diciamo che bene o male avendo OpenTX al loro interno è la stessa identica cosa. Allora qui il ragazzo vabbè mi sa che ha messo una versione delle SD differenti, infatti ci dà errore, ve le faccio vedere accese giusto per vedere i led, comunque anche guardando il led secondo me questa è molto più carina, ecco insomma molto più bella. Adesso non esageriamo però a mio avviso, adesso qui togliamo un attimo l'errore, ok così ecco qui abbiamo il ragazzo non so cosa ha fatto però ha impostato tra virgolette non benissimo, vi faccio vedere anche i due schermi. E niente diciamo che queste sono le principali differenze tanto il vano batteria qua sotto è identico, preciso, nella parte posteriore abbiamo appunto la possibilità di mettere il crossfire o comunque avere il modulo multiprotocollo già incluso su entrambe le radio. E niente la appoggiamo un attimo qui, spero che ad intanto le spengo e spero che questo piccolo confronto per chi non le potesse avere entrambe possa essere utile in un eventuale acquisto oppure eventualmente anche in un cambio, ecco. Detto questo noi ci vediamo col prossimo video, ciao!